stasera vi proporiamo rigatoni in quattro formaggio una ricetta dedicata per fabio il napoletano di la casa buon senso taleggio burro pecorino romano grattugiato grana padano mascarpone rigatoni e latte intero per fare un poco di besciamella iniziamo col burro poco di latte e lasciamo sciogliere il burro pensi che il burro si scioglie il taleggio per far sciogliere il burro taleggio fuoco basso 2-3 minuti adesso mettiamo il mascarpone siamo a fuoco basso visto di sale un po di spezie facciamo una pace accorse dal dente con il risotto risottare molto vala ben sciogliuto il formaggio adesso amalgamare il pecorino romano e adesso rimbiamo il burro taleggio fate fate a fuoco basso è veramente basso adesso sono pronti per scolare la pasta spendi il fuoco finiamo con l'altro sempre pecorino romano e l'ultimo si mette il grano padano ecco adesso siamo ben finiti e mettiamo il grano padano fuoco spento sono pronti per scendere rigaltoni a quattro formaggi grazie a tutti grazie a tutti